Più alzi il livello e più soffia il vento. È proprio vero ragazzi, più alzi il livello e più soffia il vento. Nella vita tutti quanti ci poniamo dei limiti. E poi dagli a breve iniziano gli ostacoli. Ed ecco il primo problema da risolvere. Ce la farò? Non sarò in grado? Certo che sì! E poi cosa succede? Si va avanti al prossimo ed eccoci pronti ad un'altra prova più difficile. E sei sempre solo tu a decidere se vincerla o farti vincere. Ma sappi che più vai avanti più il vento soffia e anche forte. Quindi sta solo te a scegliere se alzare la sticella e vincere o farti vincere.